amici ben trovati da adriano ottaviani per i cinque minuti di poesia romanesca settimanali se poi il grande direttore me va a racconcedere anche quotidiani ma no non ce la farei in farei in tempo oggi non avendo certezza della mia memoria un sonetto ve lo voglio leggere e si titola il ventriloquo ovvero sia come avete capito il ventriloquo quello che parla con la pancia e sono due signori che discutono l'uno è convinto che possa essere vera la cosa l'altro invece lo fa passare quasi per scemo dicendo ma se questo tu lo credi sei veramente un deficiente è il ventriloquo e si credi a questo sei uno scemo scusa postacco un uomo parli con la gente come se nella pancia internamente ci avesse qualche macchina rinchiusa non credo che in un'epoca che si usa da aprire la bocca senza di mai niente esista sto fenomeno vivente che dice tante cose a bocca chiusa parla a corventre ma questa sì che è bella soltanto il poveraccio che non magna se sente fa glugluna le budella ma io stesso specialmente a fin de mese mi sento che lo stomico se lagna ma sai che te è la voce del paese e speriamo che finisca amici alla prossima con Adriano Ciao